Il Paradiso 8, retroscena dell'attore di Il Rapporto con Adelaide proseguirà. Cosa succederà nelle nuove puntate del Paradiso delle Signore 8? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio è confermato nella fascia del Dei Team e Pomeridiano di Rai Una anche nel corso della prossima stagione televisiva. E, in questi giorni, a svelare i primi retroscena su quello che succederà, ci ha pensato l'attore Pietro Mosotti. Alias Marcello Barbieri, facendo un po' di chiarezza su quello che accadrà tra il suo personaggio e la Contessa Adelaide. Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 chiuderà i battenti per questa stagione il prossimo 5 maggio. Con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione. I fan della soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, però, possono stare tranquilli perché è già confermato l'appuntamento con l'ottava stagione. Complice il grande successo che la soap ha registrato anche quest'anno, con punte di share del 23% e oltre 2 milioni di appassionati. La Rai ha già dato il via libera per la realizzazione delle nuove puntate. La soap troverà ancora una volta spazio nella fascia del Dei Team e Pomeridiano di Rai 1, come sempre nello slato orario delle 16, 00. Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap? Quali saranno i colpi di scena che terranno banco nel corso dell'ottava stagione? A svelare i primi retroscena sulle nuove trame ci ha pensato l'attore Pietro Mosotti. Ormai diventato uno dei volti più amati dal pubblico della soap opera, grazie al ruolo di Marcello. Nelle puntate attualmente in onda su Rai 1, Marcello e la Contessa stanno vivendo una relazione in gran segreto, i due. Pur lontani da occhi indiscreti, hanno scelto di lasciarsi andare alla passione travolgente. Ben presto, però, la Contessa deciderà di uscire ufficialmente allo scoperto con Barbieri e lo farà confessando la sua relazione in corso a Ludovica, ex fidanzata di Marcello. Ebbene, la relazione tra Marcello e Adelaide e terrà banco non sono in questo attessissimo finale della settima stagione, ma anche nell'ottava serie della soap. Non sarà facile, ma il loro rapporto andrà avanti fino alla fine della stagione in corso e anche in quella successiva. Ha svelato l'attore di Marcello rivelando così un primo retroscena su quello che vedremo nel paradiso delle Signore Otto. E con il tempo forse si capirà se è un legame amoroso o resterà sul filo tra l'amicizia e l'amore. Ha aggiunto ancora l'attore di Barbieri in merito a questa relazione che sta appassionando il pubblico della Sopra I. Grazie. 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 Grazie.